e messa in gioco di Enzo Schifo bel primo tempo di Schifo, preciso come punto di riferimento liberissimo sulla fascia destra adesso la partita impone un altro schema tattico al Belgio viene avanti l'Argentina con Maradona, fra due avversari Maradona semina un terzo avversario, gol ancora trepitoso gol di Maradona ancora ha superato quattro avversari, ha messo in rete gran gol di Maradona, diciottesimo minuto nel secondo tempo, ancora uno splendido gol di Diego Armando Maradona ecco la sua azione che rivediamo e questa volta con la palla sul sinistro non c'è problema non c'è problema per Maradona superati i due, tre, quattro avversari, non si contano più e neanche l'eccellente staff può far niente contro quest'altra invenzione di Diego Armando Maradona, il più bravo giocatore del campionato del mondo forse in questo momento il più bravo giocatore al mondo in tutti i sensi, non del campionato del mondo